Amici saluto a tutti, se c'è una cosa che avete manbarato è che ridere è la miglia carta che da ogni man mano, eppure ora vi devo parlare di una cosa seria assai, una cosa che non c'è niente a ridere, una cosa che fa male il cuore, e mi ricordo a voi cari amiche donne, la violenza è un mostro che te ne faccio la paura, lo so, non è facile parlare, ma state messa niente, la violenza non è amore, chi mette a me non vuole una femma, non è un uomo d'amore, non è un uomo di libertà, e non è niente, e niente può giustificare la violenza, ma c'è sta un'arma micidiale che questa violenza la può sconfiggere, a voce, a voce a vostra, fatela sentire forte, chiara, Napoli è con voi, Napoli vi può dare una mano, ma parlate, cercate aiuto, denunciate, a voce a vostra è l'arma buona, alluccate! Io lotto, è l'iniziativa promossa dall'assessorata alle pari opportunità del Comune di Napoli e finalizzata alla promozione dei centri antiviolenza, nata con l'intento di sensibilizzare le donne vittime di maltrattamenti a denunciare i loro oppressori, i centri di ascolto possono darti un aiuto concreto, anche solo con un consiglio, fai sentire la tua voce, chiama il 1522 o scrivici in chat.